Ciao a tutti, oggi apriamo queste due bustine appena comprate, una di questo set bellissima e poi l'altra di Uragano Plasma Questo set bellissimo, senza nome, questo set dell'altro Uragano Plasma Diamond and Pearl Che? Diamond and Pearl Ah, bello bello La mia pronuncia ti è piaciuta? Sì, bellissima Perché non ti piace? Il codice, prima di tutto Ok, si è visto Vediamo se ci esce Quanta professionalità Hai visto? Sì Si vede? Sì È un fungo Allora adesso o mi esce Explode Che esce sempre quella carta Oppure mi esce Manafi Se ti esce mia Vabbè E quella di chi? No, quella è Manafi Non lo so per dire Oppure Manafi Tante è Explode No Ah, boh Le Facebook ci sta vicino Tocca a me Vai a me Mantieni L'unghia superse Sì Non la inquadrare Perché l'hai aperta al condiario? Perché al contrario? Solo tu, apri le bustine al condiario È un nuovo modo di aprirle Questa non mi ricordo Eh, non mi ricordo qua Vabbè Però facciamo così Sì Ma questo è il cogeno No, non ci sta quel codice E di dire il nome? Eh, non li so Eh, se è scritto in italiano No, non c'è scritto Non c'è scritto Ho capito Non c'è scritto, vedi? Che cos'è? Questa è la reversa È la rara? Sì Ma è brutto È recto Una mucca Sì, va bene Ma che ti brutti ci sono usciti Come sempre Questa non si è vista Questa non si è vista Ecco, si è tornato Va bene Non si è vista Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito Ah, ok Quindi non ci è uscito niente Va bene Saluto a tu Ciao a tutti E ci vediamo al prossimo video Sì Ciao